Si è insediato alcuni giorni fa il nuovo Consiglio Presbiterale Diocesano, l'organismo previsto dal diritto canonico come rappresentanza del presbiterio e come senato del vescovo, formato da presbiteri diocesani e religiosi, eletti in parte dal clero, in parte nominati come rappresentanti dei vicariati e in parte scelti direttamente dall'arcivescovo. Nel primo incontro è stato espresso il desiderio di affrontare le questioni emergenti della vita del clero e della missione ecclesiale, riconoscendo con schiettezza gli aspetti critici e ricercando un ampio confronto per offrire all'arcivescovo un parere che costituisca un orientamento chiaro e il più possibile condiviso. Tra le prime emergenze che sono state segnalate c'è anche la verifica e il rilancio del cammino delle zone pastorali, la riflessione sui ministeri istituiti nel momento in cui la Chiesa si accinge ad istituire anche le donne e ha istituito il ministero del catechista, un confronto sulla dimensione quotidiana e domestica della vita dei presbiteri e della fase delicata degli avvicendamenti. Il Consiglio ha eletto un ufficio di presidenza che faciliti l'attività di questo organismo. Accanto al vicario episcopale di riferimento Don Angelo Baldassarri sono stati eletti Don Carlo Maria Bondioli, Don Giancarlo Leonardo Leonardo, Don Filippo Passanietti, Don Massimo Dabrosca e Don Stefano Gaetti.